Allora, il commissario usa parole ben dosate perché è chiaro che non può sbilanciarsi, però io mi chiedo, da umile cittadino, no, perché i medici di pronto soccorso non vengono nelle città come Ragusa. Attenzione, il problema è anche in altre città della Sicilia e c'è anche in alcune zone del nord. E allora al nord stanno utilizzando il sistema dei gettoni. Il gettone è una cosa, chiaramente il gettone non è 20 euro e si sono resi conto che ci sono ora delle spese abbastanza alte. Il concetto è incentivare il medico, in alcune zone stanno utilizzando gli specializzanti, cioè quelli che non sono, sono laureati ma non sono specializzati, ma intanto fanno specializzazione, gli vale come punteggio. Purtroppo in ospedale è meglio trovare un medico che è medico piuttosto che non trovare nessuno, quindi già questa cosa sarebbe buona. Però io potrei pensare, se fossi, che so, il sindaco a dire, ma guardate noi abbiamo alcune nostre case, appartamenti qualificati, messi bene, li potremmo mettere a disposizione dei medici che vogliono venire a stare qui, ma devono essere cose adeguate. Ma non è una follia, perché tempo addietro noi Ragusa abbiamo attrezzato delle abitazioni anche fatte bene per ospitare i professori che venivano all'università. Quando l'università di Ragusa era come la Lucla, come Yale, che era più importante di Catania, che avevamo sette, otto, facoltà, medicina, veterinaria, scienze dell'amministrazione, avevamo tutto, incredibile, poi siamo falliti miseramente, che poi si esaggiano. Allora non ti dico Aibla, ma non è possibile trovare delle situazioni abitative, per esempio per mettere a disposizione del medico che fa il contratto, è un modo di dire, ma potrebbe anche essere una incentivazione economica. Ne diamo tanti soldi inutili, ma è una battuta, tutti i soldi sono utili a fare qualche cosa, perché noi scherziamo, ma come ti posso dire, noi prendiamo in giro quelli che fanno gli spettacoli, ma anche loro lavorano, ci mancherebbe altro, gli impresari lavorano, poi certo non bisogna esagerare, non bisogna fare come a Cannes dove magari una serie di fotografie costano 300 mila Euro. Ecco, trovare per esempio delle incentivazioni, un bonus di 10.000 Euro l'anno non sono netti, sono 1.000 Euro a mese, ma perché un giovane medico non potrebbe venire incentivarli? Dice, ma sono già medici, lo fanno per missione. Ragazzi, le missioni sono un'altra cosa. Chi ha studiato 10 anni, è giusto che merita, addirittura io so di nostri dottori primari che vogliono andare via proprio perché non riescono a guadagnare come vorrebbero, perché poi abbiamo davanti grandi luminari che guadagnano tanto e chi vuole guadagnare fa per missione, ma vuole guadagnare. Quindi questa è un'idea, facciamo venire o chi viene da fuori, ma anche gli stranieri potrebbero essere interessanti. Ci sono delle nazioni dove i medici si laureano e non guadagnano quanto guadagnano noi, si parlava una volta dell'Argentina, chiamiamoli, fediamo, perché non è possibile? Meglio avere sei dottori che vengono dall'Albania per dire che non avere nessuno. Ho fatto un accenno a Cannes. A livello politico siamo tutti ora ubriacati dal caso Matteo, come si chiama? Messina Denaro. Però ora si sta anche esagerando, stiamo perdendo quattro giorni perché abbiamo scoperto il secondo covo e il terzo covo, ma che ne fottiamo? Ormai, vabbè, l'abbiamo preso. Dice, ma c'era una rete, più baccano facciamo, più è difficile andare a risolvere questi problemi. La cosa migliore è cercare di stare in silenzio e capire dove si era coricato il lepre, perché, non c'è dubbio, ha avuto una rete di persone che lo aiutavano, le stesse carte di identità, tessere sanitarie che erano di altre persone, ma questo non si è mai accorto. Non lo so, io non credo che non gli è mai arrivato la recima. Ma lei che ha il cancro? Io? No. Ma allora chi è? Insomma, il registro tumore. Tutte queste cose non funzionavano. Non lo so. Quindi sono tutti ubriacati su questo e non parliamo più di politica. Ma la questione di Cannes sta avendo un suo risconto. Insomma, la gente vuole la testa dell'assessore Scarpinato, che è un assessore di Fratelli d'Italia, che insieme a Messina, nel passato, Maglio Messina, avevano fatto un po' di bisboccia. Io non voglio dire che hanno fregato i soldi o c'erano connessioni. È un po' allegro, perché certo, quando per andare due volte a Cannes spendi due, otto e tre e sette, insomma, sono più di sei milioni. E cazzarola, sei milioni su soldi. Non è che sono piccole cose. Sei milioni è il bilancio, vi ho detto, di un comune montano. Insomma, non è una cosa... Allora, c'è la blindatura. Il Presidente Schifan ha parlato con il Presidente Larussa, si sono parlati. È chiaro che qualcosa bisogna fare. Poi è probabile che, come dicono i detti, a corda ruppa ruppa, a sciudio con un cicuppo e scappilato non c'entra, però qualcosa bisogna farlo, bisogna dare un segnale per fare capire che non si può scherzare con queste cose. Perché gli assessori sono importanti. Dice il ruolo... No, gli assessori, secondo me, sono importanti. Gli uomini fanno, perché una cosa è metterci uno e una cosa è metterci un altro. Hanno la stessa delega, ma bisogna vedere. E questo discorso si farà anche nel prossimo futuro, perché voi sapete che a Ragusa si vota. Si vota anche in altri comuni, ma noi abbiamo su Ragusa un grande fermento, mentre negli altri posti fare meno. no? A Modica, se no invece è la continuità, stanno scegliendo, diciamo, la persona di fiducia di Ignazio Abbate. A Comiso c'è il sindaco uscente, va bene, a Fattaco, ma che ne interessa? Poi parleremo anche dell'aeroporto. A Ragusa no, perché Ragusa è sempre stata così. Ragusa non perdona gli altri sindaci, scuso Nello, ma poi tutti al primo coppo sono andati via. Ragusa non perdona. Non dimentichi che non perdona, è una città particolare, quindi bisogna sapere quello che si sta facendo. Avevamo già annunciato che sarebbe venuto in studio Giorgio Mazzari. Eccolo.